E vi racconto un'altra storia che è successa dopo un non troppo tempo. Sono andato a una conferenza come voi. Ho avuto un lungo volo. La conferenza durava due settimane. Tutto il congresso mi sembrava di essere in attesa di qualcosa. Non succedeva niente però. Assolutamente niente. Al contrario, mi chiedevo ma cosa ci faccio qui? L'ultimissimo giorno Ho incontrato il leader di quella chiesa. Io sono andato nel suo ufficio Non ero mai con mani vuote, come vi dico. 15.000 dollari Ho detto, questa è la mia offerta, il mio sacrificio. Io sto seminando. Abbiamo iniziato a parlare. Per qualche minuto E improvvisamente mi ha detto Tornerai a casa E ripete subito Dio ti darà tantissimo denaro Tantissimo denaro E io guardo ma lui mi fermava Si alzato E mi dirà subito E mi dirà subito E ci darà tantissimo denaro Tantissimo denaro E sarà un livello che tu non hai mai visto E continuava a dire che poi sarebbe cresciuto questo livello E ho parlato altri 40 minuti del mondo spirituale E poi me ne sono andato a casa Era il 16 febbraio Sono tornato Cari amici, il 3 marzo Cioè due settimane dopo Non ci credete ma Dio Mi ha benedetto la casa Con 350.000 dollari E una macchina nuova Una Mercedes di 150.000 dollari Cioè che si smettesse tutto lì Invece no E continuava ad aumentare Prendeva giri Prendeva sempre più giri questa cosa Perché a volte Dio guarda quello che Come tu ascolti La Bibbia c'è scritto Che chi ha Avrà ancora E chi non ha niente Gli verrà tolto anche quello che pensa di avere E tutto questo punto Delle scritture, cari amici Non riguarda il denaro Non riguarda il denaro Non riguarda il denaro, ve lo ripeto Non riguarda il denaro Lo vedo anche voi a casa Leggete bene Cosa dice Gesù Dice Guardate come ascoltate Eba Dal momento che Chi ha Avrà ancora di più Chi non ha nulla Perderà anche quello che pensava di avere Grazie a tutti